Dopo mesi sembra sbloccarsi il percorso che dovrebbe portare in aula consigliare il regolamento sulla gestione degli immobili abusivi. In realtà in aula c'era già arrivato durante il primo lockdown ma si preferì attendere tempi migliori. Intanto dalla regione giunsero richieste di verifica del contenuto dello stesso regolamento definito dalla commissione consigliare urbanistica e così iniziò l'attesa che si è protratta fino ad oggi. In più occasioni il presidente della commissione Giuseppe Morselli ha anche lamentato l'impossibilità di avere un riscontro diretto dai tecnici palermitani. Pare che nelle ultime settimane qualcosa si sia sbloccato e il regolamento a breve dovrebbe essere nuovamente trasmesso alla presidenza del consiglio comunale per la calendarizzazione e l'arrivo in aula. Da alcuni anni anche la procura ha attivato accertamenti ancora più accurati sulla situazione complessiva degli immobili irregolari. Se non acquisiti al patrimonio indisponibile del comune dovrebbero essere demoliti soprattutto in assenza di pubblica utilità. La commissione composta dai consiglieri Gabriele Pellegrino, Vincenzo Cascino, Alessandrace e Diego Iaglietti ha predisposto una disciplina che sembra andare verso la tutela di chi vive nelle abitazioni non in regola, evitando la demolizione ma consentendo la permanenza dietro pagamento di canoni da versare al comune. Le situazioni più complesse riguardano quegli immobili dove vivono regolarmente famiglie che in passato costruirono senza le autorizzazioni. Dalla prefettura di Caltanissetta sono arrivati solleciti a predisporre un programma per la demolizione degli abusi non più sanabili.